Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo litiga con la Mati perché vuole il suo pupazzo a forma di bottiglia. Poi, con mamma Chiara, va a vedere il grande albero di Natale in piazza a Milano. Vi lascio al video, buona visione. Come sta bene amore? Perfetto amore, grazie. I colori amore, andiamo a vedere l'albero gigante, vai vai vai. Secondo te è bello? E' troppo bello? Amore, non possiamo andare con la moto adesso. È una parla nuova di Mati. È verde, 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 ma insomma, non so. Amore, no, andiamo in macchina, vieni, fa freddo. Amore, fa freddo, no, no, no. Ma come siamo belli, fa freddo. Come siamo belli, amore. Grazie. 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 Lei? E mamma. Lui? E lei. Con? Mati. E lui chi è? E papà. E lui chi è? E nonno. Ok. Andiamo a fare la nanna. Sono 8-8. Non sono le 8-8-8. Sono 8-8. Sono le 10. Sono le 8. No, devi andare a fare la nanna. No, no. Sì, sì. No, no. Sì, sì. Volevo dirvi che oggi è aperto finalmente il bando del fondo Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Con i 2 milioni e mezzo che sono stati raccolti riusciremo ad aiutare più di 2.000 famiglie e a breve, adesso vado in studio, a breve vi racconto come funziona e come accedere al fondo per gli aiuti. Figata comunque. Mi preme per correttezza e chiarire un attimo la situazione riguardo all'iniziativa che è stata fatta ieri sulle donazioni di Twitch. Visto che un paio di giornalisti hanno dato il loro parere, io vorrei un attimo per punti chiarire la situazione. Allora, innanzitutto Twitch è una piattaforma dove gli utenti donano dei soldi alle persone che fanno le live streaming e solitamente gli utenti, cioè le persone che streamano, si tengono giustamente questi soldi. Sono parte della loro remunerazione. Io, non reputando di averne bisogno, perché io streamo per passione, fondamentalmente perché mi piace, ho deciso di donare questi soldi. Essendo soldi di donazioni, per agevolare in qualche modo e rendere partecipi le persone che donavano questi soldi, non sono stato io a decidere né a chi e né come donare, ma hanno scelto gli utenti che guardavano la live, quindi a chi e come donarli. E io, per trasparenza e correttezza nei confronti di chi aveva donato quei denari, mi sono prodigato nel consegnarli, dedicando tutta la giornata di ieri a questa cosa. Tra l'altro, non ho ripreso per privacy i volti di molti di queste persone, solo chi ne voleva e sono stati ripresi i volti solo di due persone. Questa è l'iniziativa. Quello che mi spiace è leggere negli articoli il modello della mia macchina come se questa fosse una discriminante. Io la mia macchina l'ho pagata regolarmente, non me ne vergogno. Mi piace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa, che è a fin di bene, io non mi voglio esimere dal farlo. E quindi lo rifarei. Questa è una cosa che tra l'altro in America viene fatta più e più volte, capisco che siamo un paese diverso, quindi io lo rifarei, probabilmente la prossima volta prenderò la metro se questo era il problema del mezzo usato.